E una competizione ufficiale in quanto tale va onorata e rispettata in alcuni casi, però la Coppa Italia di Serie D rappresenta davvero un fastidio in vista della preparazione ai prossimi impegni di campionato. Chissà se anche il Molfetta avrebbe fatto volentieri a meno della partita di domani, che però c'è e va comunque affrontata con la giusta mentalità. Biancorossi di scena per i 32esimi di finale a Pozzuoli contro la Putiolana, con fisco d'inizio allo stadio Domenico Conte, fissato per le ore 14.30. Poi si penserà al derby, al Paolo Poli contro il Gravina. È un impegno al quale non possiamo assolutamente rinunciare e è chiaro ed è scontato che se avessimo avuto la possibilità di utilizzare la cosiddetta settimana tipo per preparare al meglio la gara di domenica contro il Gravina, per noi fondamentale, lo avrei preferito. C'è anche un derby tutto pugliese nel programma del secondo turno, lo giocheranno Alvito Corlo a partire dalle ore 17, Fasano e Timo Altamura, Biancazzurri, che devono riscattare la sconfitta la prima di questo campionato. A Franca Villensini, Murgiani rivitalizzati invece dal successo di Nocera Inferiore. Adesso abbiamo questo incontro infrasettimanale, una competizione a cui teniamo tanto, a cui tiene la società, tiene la piazza, quindi ora abbiamo due giorni per imboccarci le maniche, per capire chi sono i giocatori disponibili. Cercheremo anche mercoledì di mandare in campo la formazione migliore per affrontare questa partita. Non esaltiamoci, adesso dobbiamo continuare a lavorare perché abbiamo voglia di passare anche il turno di Coppa Italia mercoledì, che in realtà è un'altra partita molto difficile. Non dobbiamo cambiare sbagliato atteggiamento perché quando si vince è facile fare dei voli pinderici, ma non dobbiamo farlo perché la squadra sa quello che deve fare, perché dobbiamo conquistare i più punti possibili, dobbiamo divertirci, continuare a giocare e soprattutto adesso dobbiamo cercare di passare il turno perché è nelle nostre corte. Un derby pugliese e poi un derby anche tutto a Lucano. Franca Villensini contro Lavello, gara secca al Fittipaldi dalle ore 14.30, come tutte quelle valide per il secondo turno di Coppa Italia di Serie D.